Ci sono universi meravigliosi nell'esperienza con questa meraviglia. L'accesso a queste dimensioni non dipende dal luogo fisico in cui facciamo l'esperienza che siamo in Italia, in Giappone, in America. L'accesso a queste dimensioni è comunque sempre lo stesso. Comunque la beviamo, il report di molti che ne hanno fatto l'esperienza, l'accesso a questa dimensione. Sì, sacra, magica, incantata, dimensione del reale. E l'interdipendenza tra la dimensione materiale e quella immateriale. Le immagini che ho mostrato su questa pagina non sono fatte da Pablo Amaregno, queste sono fatte da artisti americani, nordamericani. È un artista nordamericano che ha fatto questi disegni, non Pablo Amaregno. Le due immagini a destra sono da Alex Gray, da New York. Alex Gray da New York ha fatto le due piccole immagini sulla sinistra. E la immagina a destra è da Robert Venosa, da Boulder, Colorado. E dal Colorado, Robert Venosa ha dipinto l'immagine sulla destra. E il loro lavoro, e il lavoro di molti altri artisti occidentali, ha stato molto attaccato dall'esperienza di ayahuasca. E ha portato un grande spazio di creatività e arte visionaria in tutto il mondo. E un grande numero di artisti occidentali hanno avuto la possibilità di esprimere la loro dimensione artistica grazie all'esperienza con la masca. E questa arte è sempre molto incentrata, porta molta attenzione sulla dimensione magica, incantata e sacra della realtà. Non ha solo a che fare con le bellissime visioni. Una delle cose più toste che l'ayahuasca porta in modo universale a tutti quelli che ne fanno esperienza è che ti fanno rivedere la tua vita intera. Rivedi le tue azioni, le tue credenze, le tue parole, non dal tuo punto di vista, ma da quello delle persone a cui sono state indirizzate. Magari ci consideriamo dalle brave persone, ma l'ayahuasca ci fa vedere un'altra verità. E magari c'è un aspetto di noi che l'ayahuasca ci mostra che è sgradevole, che non è decisamente positiva, rassicurante. E abbiamo bisogno di fare qualcosa rispetto a queste nostre credenze. Nell'Amazzonia, nella terra dell'Amazzonia, l'ayahuasca viene considerata un maestro. Il cui insegnamento ha una dimensione altamente morale. Credono che ci sia uno spirito intelligente che accompagna l'ayahuasca. e che questo spirito ci vuole far diventare gli esseri migliori che possiamo essere. L'ayahuasca è stata usata anche per aiutare persone dipendenti dalla cocaina o dall'eroina per liberarsi da questa dipendenza. C'è un amico dottore in Peru che usa l'ayahuasca proprio in questi casi. E' chiamato Takiwasi. Takiwasi. E' un paese chiamato Tarapoto in Peru. Grazie all'uso dell'ayahuasca in questi ospedali in Peru, persone che hanno dipendenze fortissime dalla cocaina dell'oreina e dall'eroina riescono a essere curate. In qualche modo l'ayahuasca fa vedere a queste persone e le confronta con le radici profonde della loro dipendenza in questo modo. Nell'Amazonia si considera lo spirito che accompagna queste esperienze della bevanda ayahuasca, la si considera femmina. E questa pittura da Martina Hoffman, un altro artista nordamericano, mostra in questo disegno alcune possibilità in cui lo spirito dell'ayahuasca può essere rappresentato. A volte appare come un serpente, a volte come un jaguaro, a volte come una donna, un essere umano femminile. L'unica possibilità di posizionarsi davanti alla madre ayahuasca non è che questa dipinta di abbandono, di resa totale. L'ayahuasca non è una realtà individuale singola, ma fa parte di un insieme di conoscenze che sono non ancora controllate dalla cultura dominante occidentale. E questa conoscenza e questa tradizione delle mani degli sciamani che sono presenti in tutti i paesi del mondo. Non tutti usano l'ayahuasca per andare nello stato di trans. In altre culture they use other plants, for example peyote. E per esempio peyote viene anche usato per gli stati di trans. O psilocybin mushrooms. O dei funghi. And they don't always use visionary plants. Sometimes they will use rhythmic dancing. E a volte non vengono usate le piante, ma si usano danze. Fasting. Other techniques to bring about a deeply altered state of consciousness. Ci sono molte tecniche per condurci a uno stato profondo di vicino. E questo è quello che resta un principio comune per tutte le tradizioni sciamaniche del mondo. Arrivare a questo stato di coscienza. Lo stato di trans. E naturalmente il modo di arrivarci dipende da cultura. In questi stati alterati di coscienza, di solito vengono riportati incontri con degli spiriti. Delle entità che si rappresentano come spiriti. A volte appaiono in forma umana. Ma possono anche apparire spesso come animali. O creature come si vede sul lato destro e sinistro dello schermo. Che sono ibridi, parti umani e parti animali. Il termine tecnico per questi è Therianthropi. Therianthropi è il termine tecnico di queste creature umane, con metà componenti umani. Questo è dal greco Therion, che significa wild beast, e Anthropos, che significa man. E questo viene dall'etimologia griega animale. E gli stessi sciamani riportano di trasformarsi in creature di questo tipo nei loro stati di trans. C'è un mistero interessante. Che molte delle esperienze riportate dagli sciamani con gli spiriti. E sono molto simili queste esperienze a quelle riportate da migliaia di esseri umani che riguardano gli incontri con gli alieni. Sembrerebbero due argomenti molto distinti. Ma ci sono delle straordinarie, stupefacenti somiglianze che riguardano ciò che succede in questi due eventi. Possiamo vedere in dipinti che vengono dagli sciamani rappresentazioni che noi chiameremo UFO. Vedete come queste piccole, queste sorgenti qui in alto a destra, bianche. E ho chiesto a Pablo Amarico, ma perché tu hai dipinto questi sorgenti volanti nei tuoi disegni? Cosa vuoi dire, no? Che c'è una dimensione di alieni extraterrestri. Lui ha detto, no, non sono veicoli per entrare e uscire dal mondo spirituale. E ma no, lui ha detto, non sono veicoli di extraterrestri, ma sono veicoli per entrare e uscire dal mondo spirituale. C'è poco da fare. Molti di noi hanno sentito tutte le discussioni, tutti i pareri contraposti e i dibattiti che ci sono riguardo agli UFO. In realtà possiamo solo dire che c'è qualche cosa a questo livello che ancora non sobbiamo. Perché dovremmo pensare per forza che questi oggetti tecnologicamente molto evoluti debbano venire per forza da altri pianeti? Magari il mistero è ancora più misterioso. Quando gli sciamani parlano di questi argomenti non sono molto diversi dai fisici che parlano di dimensioni di universi paralleli. Quindi questo fenomeno non ha tanto a che fare con la tecnologia evoluta, ma potrebbe avere a che fare in realtà più con le dimensioni. Naturalmente c'è una documentazione straordinaria delle esperienze sciamaniche. Questo libro è sullo sciamanismo e può essere un'ottima scelta. che descrive le esperienze sciamaniche di tradizioni diverse. E se volete anche avere documentazioni interessanti sul fenomeno degli UFO, anche lì non c'è anche l'imbarazzo della scelta. John Mack, la persona a sinistra, è stato professore di psichiatria all'università di Harvard. E ha raccolto migliaia di interviste da persone che si sono dette rapite. Quindi abbiamo la possibilità di fare un confronto tra questi due modi degli alieni o delle esperienze sciamaniche. C'è un sacco di roba scritta che qui vedete in inglese e la riassumo brevemente. Grazie a tutti!